Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il veterinario. Questa sera vediamo di imparare qualcosa riguardo a un animale simbolo delle Alpi e delle aree protette, che è lo stambecco. È sicuramente un animale molto affascinante, che era quasi ridotto all'estinzione, ma fortunatamente è stato salvato, sia per quanto riguarda proprio gli interventi da parte dell'uomo recenti, ma anche qualche anno fa. In particolare nel 1821 c'erano rimasti solo 200 capi, erano sopravvissuti nella zona tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, appunto nel gruppo del Gran Paradiso. E lo stambecco deve la sua salvezza proprio al re Vittorio Emanuele II, quando istituì proprio sul Gran Paradiso una riserva reale di caccia, sottraendo quindi lo stambecco allo sterminio. In Lombardia invece già nel 1967, quindi più in là, nel Parco Nazionale dello Stelvo, 29 capi furono proprio portati dal Parco del Gran Paradiso e cominciarono a ripopolare le nostre zone. Calcolate che comunque sembra che da uno studio recente, laddove furono censiti circa 5.000 capi sul Gran Paradiso, qualche anno fa, attualmente sembra se ne siano rimasti solo 3.500. Questo sembra dovuto al fatto che i piccoli dello stambecco non sopravvivono all'inverno, in quanto verso la fine dell'estate l'erba eccessivamente matura non è più in grado di fornire una riserva di energia sufficiente a superare l'inverno. Secondo gli studiosi questo sembra sia dovuto a dei cambiamenti climatici dove le stagioni generalmente sono anticipate e quindi la parte finale dell'estate presenta delle erbe e dei fiori più fibrosi, meno ricchi di sostanza e quindi i piccoli di stambecco faticano a depositare quel grasso e quelle riserve naturali nel corpo che gli permetterebbero di sopravvivere al freddo inverno. Questo sembra l'ipotesi più accreditata, quindi sicuramente è un animale da tenere sotto controllo, non disturbare nel momento in cui viene avvistato e permettere proprio un incrocio tra le vari ceppi presenti sulle Alpi in modo da rafforzare la genetica e poter trovare un nuovo equilibrio che permetta una stabilizzazione della specie. Bene, per questa sera è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di Quala Zampa. Arrivederci!